amici bentornati sul canale 9mila giri elaborazioni autosportive anche oggi facciamo una puntata divulgativa cioè cerchiamo di rispondere a dei quesiti o proponiamo noi delle argomentazioni che possono essere di interesse generale spesso ci chiedono appunto nei commenti o nelle telefonate quali sono gli aspetti più critici nel momento in cui uno dovesse venire fermato in strada da parte delle forze dell'ordine che possono essere la polizia locale carabinieri la polizia con la propria macchina indipendentemente dal fatto che se uno ha un comportamento sbagliato fa una manovra scorretta o quant'altro ovviamente quella la risposta ea dietro la macchina polizia evidente che la risposta uno se la dà da solo però ci sono alcune alcune volte dove uno percorre la propria strada in maniera assolutamente senza fare nessuna infrazione e a seconda delle 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 ci sono dei controlli che giustamente io ritengo devono essere fatti perché non è solo quello di reprimere o dare addosso a coloro che fanno alcune modifiche sulla macchina ma è anche il fatto di controllare che non ci siano diciamo in giro macchine con assicurazioni scadute che ci siano magari dei della gente con la patente scaduta con la sicura senza l'assicurazione cioè sono dei controlli che assolutamente devono esserci per non creare un far west di questi ben venga che ci siano questi controlli però a volte uno viene fermato e solitamente quello che viene controllato da parte delle forze dell'ordine sono delle cose abbastanza generiche di condivere sempre la cautela di avere soprattutto di sera i fari funzionanti se uno va in giro con un faro acceso e l'altro spento è pacifico e matematico che viene fermato e anche ripeto giustamente perché questo crea un pericolo per sé e per gli altri quindi la prima cosa sono proprio le cose basiche il fatto di avere le gomme che abbiano minimo due millimetri di battistrada o due millimetri e mezzo di battistrada anche questo è un aspetto da tenere da controllare dovete essere voi a controllarlo cioè non aspettare che siano gli altri a controllarlo perché nei momenti in cui vi controlla una una pattuglia e avete il battistrada sotto quella quello spessore minimo è inevitabile che veniate sanzionati ma al di là della sanzione il pericolo che correte voi e gli altri andami in giro con delle gomme lisce soprattutto in condizioni magari di scarsa aderenza quando è bagnato piuttosto che quando nevica è meglio non trovarci sì quindi è meglio prevenire che non che non curare altri aspetti diciamo legati a cose macroscopiche sostanzialmente sono questi non non è che ce ne sono molti altri poi ovviamente quando un utente della strada viene fermato in alcuni casi vengono anche controllate altre parti della macchina per verificare che la macchina nel suo insieme sia rispetti l'umologazione del stabilità per quel tipo di vettura per cui se le luci funzionano le gomme sono a posto magari non si fermano li vanno anche a controllare altre cose e generalmente vanno a vedere se la macchina è stata modificata in alcune delle sue parti per cui io suggerisco sempre ai nostri clienti ad esempio lo scarico è una delle cose un terminale di scarico la linea di scarico diciamo così è una delle cose che vengono più gettonate dai nostri clienti e che ci richiedono di più ed è una delle cose che generalmente la polizia va a controllare io dico sempre ai nostri clienti se andiamo a montare cioè se esiste fra i vari cataloghi dei nostri fornitori una linea di scarico sportiva omologata andiamo a montare quella noi facciamo anche le linee di scarico artigianali però diciamo sempre molto chiaramente ai clienti attenzione che lo scarico artigianale non è omologato quindi se la il vostro scopo è quello di risparmiare qualche cosa ovviamente l'artigianale costa un pochino meno del di quello comprato già fatto secondo me sono soldi sono risparmi mal risparmiati sono soldi risparmiati in questo senso perché al primo controllo se per caso beccate quello che vi chiede il certificato di omograzione del vostro terminale che cosa gli fate vedere la carta del gelato detto questo cercate di come ho detto prima prevenire piuttosto che trovarvi poi a mal partito quando vi dovessero fermare quindi sul discorso degli scarichi è una delle cose che vanno a controllare la seconda cosa che controllano ma quello è evidente pacifico è la misura delle gomme perché proprio è stampigliata sulla 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 spalla della gomma quindi attenzione a non andare a mettere delle misure di gomme o delle dei diametri di cerchi che non siano omologati che non siano riportati sul libretto perché questo è assolutamente come dire il primo aspetto per il quale la macchina vi finisce revisione straordinaria quindi attenzione a questa cosa sapendo che diciamo adesso c'è una normativa per la quale se anche non sono omologati sul libretto le case che costruiscono i cerchi noi ad esempio lavoriamo con lo z tanto per fare un esempio io posso inserire il numero di targa di quella macchina e mi vengono fuori tutti i cerchi omologati con pezzature diverse magari anche non riportati sul libretto in questo caso una facilitazione rispetto alla normativa precedente per cui non devo chiedere nulla osta alla casa è il fornitore stesso dei cerchi che si assume la responsabilità di aver omologato quel cerchio con quelle caratteristiche che sopporta i pesi sugli assi per quel tipo di macchina e viene fornito un certificato di omologazione quindi in questo caso il cliente è cautelato poi è vero anche ma questo magari ne parliamo un'altra puntata che per essere a regola in maniera perfetta questo certificato di omologazione assieme al certificato di corretto montaggio che vi dovrebbe dare il gommista entrambi questi documenti li si porta un agenzia di pratiche auto e viene riportato sul libretto questa misura in più del diametro o della misura delle gomme però ripeto che sia riportato meno comunque omologato rimane non è che pezzo di carta trasforma magicamente il cerchio la gomma in omologato oppure no altre cose che potrebbero controllarvi sono questo più raro però capita facciamo anche una come dire abbiamo fatto una sintesi di quelli che sono le esperienze delle fatte da da nostri clienti quelli che almeno ci hanno raccontato ogni tanto capita che controllino anche il fatto di avere o meno dei distanziali cioè il distanziale purtroppo non è un componente omologato perché va a spostare l'interasse sull'asse anteriore e l'interasse sull'asse posteriore quindi in questo caso noi suggeriamo se uno vuole diciamo chiaramente che è un componente non omologato se il cliente decide comunque di montarlo la cautela almeno quello di colorarlo nella stessa tonalità dei cerchi perché se sono i cerchi in alluminio si monta un distanziale in alluminio in modo tale che si nasconda bene o male che sembri una parte integrante del cerchio se il cerchio è nero si noi di solito verniciamo la parte della faccia del distanziale in nero in maniera da far correre meno rischio ai clienti rimane sempre il fatto che un componente che non è omologato e il cliente lo sa quindi anche quella è una cosa che normalmente vanno a vedere direi tutto quello che riguarda la parte elettronica non hanno nessuna possibilità di controllare la parte elettronica quindi su quello direi che non ci sono dei grossi patemi d'animo altre cose che possono andare a controllare fatto salvo appunto che uno può montare tranquillamente un impianto frenante diverso l'importante che sia specifico per quella macchina pensate in giro con i dischi dei freni sportivi piuttosto che le pastiglie bc gialle piuttosto che rosse non possono dire niente perché sono omologate quindi l'importante non mettere un impianto maggiorato in questo caso c'è una differenza abissale ecco stare attenti su altri piccoli componenti se vi aprono il cofano ad esempio non avere un filtro d'aspirazione diretta cioè il classico filtro a fungo che oltretutto noi sconsigliamo di mettere per faremo magari un'altra puntata tecnica sul perché noi sconsigliamo di montare i filtri a fungo però tanti montano questi filtri e questi filtri qua rispetto a quelli sportivi a pannello che sono omologati questi filtri a fungo non sono omologati e altra cosa magari sono le barre d'uomi anche la barra d'uomi nonostante io la reputi un componente assolutamente di sicurezza purtroppo per la normativa che c'è adesso in italia le barre d'uomi non sono omologate per cui se avete una barra d'uomi e la macchina non nasce con questo componente potreste essere sanzionati quello che noi cerchiamo di fare è tutte le volte che noi vendiamo del materiale facciamo sempre un distingo tra le cose che sono omologate le cose che non sono omologate poi il cliente stesso che decide che cosa fare l'importante non omettere delle informazioni che potrebbero essere poi interpretate in maniera diversa se tu non dai un'informazione corretta il cliente può dirmi ma scusa potevi dirmi che questo componente non era omologato mi ha fermato mi ha fatto il verbale quindi per questo motivo basta documentarsi un attimino su internet e sono informazioni di dominio pubblico per cui diciamo nel momento in cui venite fermati ovviamente non entro nel merito dell'atteggiamento vostro di rimanere come dire venite comunque fermati da persone che corrono i loro rischi tutti i giorni persone che si prodigono a fare in modo che ci sia una sicurezza in italia quindi il fatto di le poche volte che mi hanno fermato ho sempre io sempre ringraziato sempre fatto i complimenti per il loro lavoro mai approcciarli in maniera diciamo aggressiva perché è proprio una questione umana se uno approccia una persona in maniera aggressiva si mette automaticamente dalla parte del torto e se uno ha qualche piccola cosa che è meglio che non non venga controllata è meglio approcciare il discorso in maniera pochino più amichevole dall'inizio io spero anche in questo caso di avervi dato due o tre informazioni utili per qualunque altro approfondimento mi potete scrivere e nei commenti io vi risponderò come faccio con tutti quelli che ci iscrivono rispondo sempre a tutti quello che vi chiedo è cliccare sulla campanella ma soprattutto darci una mano e iscrivervi al canale perché per noi è molto utile che questo canale cresca e si amplifichi la diffusione di quello che noi facciamo appunto in questo settore che appunto quello settore delle modifiche delle elaborazioni su auto sportive per il resto è tutto alla prossima ciao ciao